Cosa è la borsite trocanterica? La borsite trocanterica è una condizione che causa dolore al di fuori dell'anca. Il problema si verifica quando la borsa trocanterica si infiamma, causando attrito e dolore durante il movimento dell'articolazione. La borsite trocanterica può essere causata da una serie di fattori tra cui un colpo diretto alla borsa o movimenti ripetitivi. I sintomi includono dolore nella zona del trocantere più grande, anche se nel tempo questo può diventare un dolore più generale nei malati cronici. Una borsa è un piccolo sacco di liquido che aiuta a lubrificare le articolazioni del corpo durante il movimento. Ci sono borse che si trovano in molte articolazioni tra cui il ginocchio e l'anca. Quando una borsa si infiamma, si gonfia facendola esercitare pressione durante il movimento. Ciò si traduce in dolore che può variare da lieve a grave a seconda di quanto sia grave la condizione. Esistono diverse cause potenziali per la borsite trocanterica. Il più comune è attraverso l'infiammazione della borsa che si verifica quando l'articolazione viene utilizzata in un movimento ripetitivo. Questo è anche noto come una lesione da sforzo ripetitivo. Un colpo diretto può anche causare infiammazioni e infezioni. La chirurgia nell'area può lasciare cicatrici che possono causare borsiti nel tempo. I sintomi della borsite trocanterica comprendono dolore durante il movimento, difficoltà a camminare e dolore quando si trovano sul lato. In molti casi, il dolore può peggiorare piuttosto che migliorare nel tempo se il problema di fondo non viene risolto. Le persone con una borsite cronica trocanterica spesso scoprono che il dolore inizia a diffondersi dal punto esatto della borsa. Il trattamento per la borsite trocanterica inizia con una diagnosi accurata del problema. Ci sono diverse condizioni che possono causare sintomi simili che devono essere esclusi prima che il trattamento possa iniziare. Spesso è necessario un esame fisico e si possono usare raggi X per differenziare tra borsite e altri potenziali problemi come la tendinite. Il modo più efficace per trattare la borsite trocanterica è di riposare l'articolazione e utilizzare farmaci antinfiammatori per controllare il gonfiore. La terapia fisica viene spesso utilizzata per trattare il problema sottostante che ha causato l'eccesso di pressione nella borsa. In alcuni casi è possibile eseguire anche il massaggio, anche se questo deve essere usato con cautela per prevenire un maggior gonfiore. Il cortisone è talvolta usato nei casi peggiori per ridurre il gonfiore.